oh guarda la prossima roba vaici fuori fuori carica di che carica? non c'è niente 50, 50 se ne è Dario e a calcio non si deve guagnare vado bene va calcio non si deve guagnare e? Dario e se è Dario cotta ci via vado bene va ma è sempre romano sti soldi si munga vai minga vai ma io ma tu perchè tu riusci la piazza anche tu mi riusci una cosa e poi mi riusci ma ora mi riusci la piazza io mi riusci la piazza ti si parla che mi riusci la piazza ah perchè la piazza non ci piace un cano è gaiato si masate ne ho stessa ne ho capito la cosa agganciava quando fai dopo che anno sprucchiamo fai signor Dario che io cillo a bene bene tu a bene bene tu ci ne parliamo signor su Luca dai vienci ciao ciao